Maria De Filippi avrebbe già lavorato alla prossima edizione di Amici. Pochi giorni dopo la fine del talento, l'auto della realtà sta nuovamente riscaldando i motori per una partenza prevista per settembre 2023. Nella prossima stagione potrebbero esserci molte notizie, a partire dai professori della scuola. Ci sono grandi conferme, ma anche abbandoni e nuovi nomi. Soffico De Goni, la figlia Celine Blu posa con la sua linea di abbigliamento. Marco Mazzoli senza freni, L e a due naufraghi sono qui solo per soldi. Con cui ce l'hanno avuto con nuovi prof in effetti, nella prossima edizione potrebbe esserci, in effetti, Arisa, ha spiegato che voleva tornare a concentrarsi solo sulla musica e pensare a partecipare al festival di Sanremo, e Todaro, quest'ultimo presumibilmente per una cattiva disputa aveva avuto con Mary stessa durante il percorso di uno degli episodi. In proposito delle voci sulla rete, dei sostituti di aviantia. Le conferme queste sono, ovviamente solo ipotesi, che nessuno stia confermando, ma in passato Pledi è stato molto apprezzato nella trasmissione, conosce bene le sue dinamiche e il suo nome potrebbe essere molto probabile.